Lei ha detto, Assessore, lei ha detto, Assessore, io non sto disturbato, io sto facendo una cosa e non ti permette di dire che io sto disturbato, Assessore, Assessore, ma prego di dire al suo collaboratore di non dire che io sto disturbato, assolutamente. Tensione a Palazzo San Giacomo e battute al veleno dietro il tavolo istituzionale ci sono l'Assessore alla Cultura Nino Daniele e un parterre organizzatori a vario titolo dell'imminente Pizza Village. In prima fila invece nella Sala della Giunta, tra gli altri, il consigliere comunale Ciro Fiola, con un enorme cartello in cui si ricorda che a Napoli pizza e bibita costano 5 euro. Ma non è solo un attacco ai prezzi della Kermess sulla pizza, che quest'anno ospita anche i campionati del mondo per l'alimento partenopeo più famoso al mondo. Fiola se la prende anche carte alla mano con l'assegnazione del Pizza Village all'APN, accusando l'amministrazione comunale di poca trasparenza. Prima di questa domanda ce ne erano altre tre. Come mai le altre non sono state prese in considerazione? Beh, voglio ammettere quella là presentata una a marzo e una ripetuta a giugno, dove l'assessore Panini stranamente dice in una lettera, siamo profondamente dispiaciuti non poterla accontentare, perché c'era una domanda pluriennale e c'è questa richiesta che è da data 30 giugno di quest'anno. Tra le altre cose, mi preoccupo pure, mentre ci sono le altre richieste che sono state protocollate diciamo in un modo informatico, qua porta semplicemente a penna una data del 30 giugno. Quando l'assessore Daniele dallo scranno prova a replicare, Fiola, indispettito, abbandona la sala. Mi ha denuso anche lei, mi ha denuso anche lei, l'assessore, mi ha aspettato che la risposta è più coerente da lei, ma con lo storano e come lei dice no. Daniele ribadendo la convinzione di aver agito nella bontè e nella correttezza, poi non lesina una frecciatina al veleno a Fiola. Capisco che ci avviciniamo alla campagna elettorale, quindi ogni tribuna è buona, ma noi siccome siamo così convinti di stare facendo una cosa dell'interesse generale, come avete visto affrontiamo tutto con molta annuncia. Uno scambio di battute che ha caratterizzato la presentazione del villaggio della pizza sul lungomare, che si farà nonostante il percorso a causa dei costi di locazione sia stato pieno di ostacoli. Ascoltiamo Sergio Micù, organizzatore dell'evento. Diciamo che non è stato mai a rischio, abbiamo avuto dei momenti che eravamo non indecisi, però a rischio mai perché l'avremmo fatto comunque, perché non è un evento che si costruisce in un giorno, è un evento che si costruisce anno per anno.